Un momento, adesso non ci sta attaccando Non vi preoccupate di lui, senza il telecomando di fratello Vlade è un loco Non fidarti amico Che cosa? Allontanati da qualcosa Ha dei circolati rovinati, forse posso aggistarli No! Tranquillo, ti aggiusterò Ma fai piano, nessuno deve sapere che sei qui Sei come l'uomo, piccolo amico Adesso però, se vuoi rimanere, dobbiamo stabilire delle regole basi Questi sono i buoni Quindi non devi accontollarli, bruciarli, pugninarli o sconforli Ah, sei davvero un bravo cucciolone, eh? Anche se gli altri non sono d'accordo, io ti tengo Guarda un po' qui, sto sanguinando Mmigna No! Mmigna Perché? E se tu siate? Attento! Ehi, qualcuno ha visto Bibi? No, ma ho sentito le sue urla seguite da orribili tonfi metallici provenire dalla cucina Orribili tonfi metallici